Eccolo qua, via! Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo arrivati ormai alla conclusione di questo ciclo di incontri che abbiamo iniziato dal primo di luglio del 2020 in maniera ininterrotta, quindi è durato parecchio. Questa sera concludiamo. E poi si vedrà in futuro chi mi succederà, che cosa vorrà fare. Io sono ormai giunta anche al termine del mandato, quindi a breve, tra un mesetto, terminiamo tutto. Bene, questa sera è la volta dei due avvocati, Giancarlo Spagna, che è un consulente della CCE, e il presidente del GR Emilia Romagna, Bizzarri Massimo. Ci parleranno di assicurazione e di responsabilità degli accompagnatori in montagna. Prego. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Ormai io e Giancarlo facciamo copia fissa, quindi ci siamo divisi e ci dividiamo la serata, in cui io inizierò a parlare da un punto di vista strettamente giuridico di responsabilità e quindi tutte le implicazioni che possono esserci nell'accompagnamento in montagna in ambito CAI. Qui farò, alla fine, farò vedere alcuni slide per far capire come si vanno a ricercare sul sito del CAI nazionale le parti che ci interessano, quindi le polizze assicurative, piuttosto che il manuale che poi dopo presenterà Giancarlo sulle assicurazioni, e quindi in modo da avere un percorso è anche visivamente facile da trovare. Io ho alcuni slide che presenterò, tra poco le metto su, volevo fare prima una chiacchierata iniziale. Allora, qualcuno di voi certamente avrà già sentito mai Giancarlo in una serata, quindi ovviamente rispetto a una tecnica nuova di alpinismo o una ricerca di arpa nuova che viene inventata, è un prodotto nuovo, quindi la lezione che viene fatta la serata ha qualcosa di nuovo, qui con la materia che veniamo a trattare invece chiaramente le argomentazioni sono sempre le stesse, quindi voglio dire ci aggiorniamo strada facendo in base a eventualmente qualche novità dal punto di vista giuridico da parte mia e ovviamente di novità rispetto a nuove presentazioni, di nuove polizze o nuovi casi che possono essere oggetto di polizze assicurative, di questo vi parlerà appunto Giancarlo. Responsabilità, quindi prima di introdurre il discorso vero e proprio faremo una breve carellata sulle fonti di questa, sulle fonti, perché? Perché ritengo che come voi siete titolati, quindi siete o istruttori, o accompagnatori, o semplici, passatemi il termine, non è dispregiativo, capigita, ecco che allora dobbiamo avere il nostro bagaglio come culturale del CAI, quindi come dobbiamo sapere come ci infiliamo e come dobbiamo usare un moschettone, come dobbiamo usare e fare una corda fissa, dobbiamo anche avere strettamente nel nostro bagaglio culturale, nel nostro zaino, anche le cognizioni vere e proprie giuridici che ci permettono di svolgere quello che noi facciamo, lo facciamo da volontari, ma come ben sapete il volontario non è esente da responsabilità, tutti voi avrete certamente conosciuto o magari avete anche partecipato in associazioni che ne so, tipo la Croce Verde, una pubblica assistenza, la Croce Rossa, in modo tale da sapere che cosa vuol dire fare volontariato, vuol dire andare a soccorrere in quel caso determinate persone che hanno necessità di assistenza in quel momento e quindi una mia operazione, manovra sbagliata, può creare un danno. Quindi se io in quell'ambito lì muovo la testa a un soggetto che è caduto e questa aveva già una verte da mezza rotta, io posso essere chiamato a pagare perché nonostante lo stessi facendo non mi sono comportato secondo le regole standard che avrei dovuto conoscere e avrei dovuto non solo conoscere ma anche mettere in opera nel momento in cui io vado fuori su un'ambulanza a fare un soccorso sulla strada. Stesso discorso è nostro. Quindi tutte le volte in cui noi organizziamo, o meglio, organizziamo vuol dire proprio come dice il termine organizzare, quindi io Massimo Bizzarri metto insieme una serie di uscite, preparo il volantino, dico gli orari, me ne ho d'accordo, però non è detto che l'organizzatore sia anche effettivamente il responsabile dell'uscita perché non è detto che io venga in quell'uscita, in quell'uscita ci va Giancarlo. Io e lui siamo d'accordo, gli faccio tutta la parte burocratica, la parte amministrativa, la parte di richiesta del poli controllo, poli trassicurazione, per il nostro rifugio, chiamo, se è libera la strada, preparo in segreteria tutte le iscrizioni, ma poi dopo io non ci vado, ci va Giancarlo. Mi richiaro che è Giancarlo che in quel momento ha la responsabilità di accompagnare qualcuno in montagna. Vedremo che c'è anche una netta differenza tra essere titolati in un corso ed essere invece in una escursione sezionale e dopo capirete il perché. Quindi adesso io vi metto carico la slide e quindi cominciamo a parlare. Quindi questo discorso dopo porterà a una divisione tra l'aspetto civilistico e l'aspetto penale di che cosa vuol dire essere assicurati, cosa vuol dire non poter essere assicurati, che cosa vuol dire avere una responsabilità penale rispetto a una responsabilità civile e quindi quando potrà intervenire Giancarlo facendo aprire il sinistro e cercando di tutelare dal punto di vista patrimoniale il soggetto perché la responsabilità quando parliamo di responsabilità non è che faccio sempre l'esempio e Giancarlo ormai lo sa memoria il discorso della conosciamo tutti la responsabilità dell'RC auto quindi noi sappiamo che per poter mettere in moto la nostra macchina e per poter cicolare sulla strada dobbiamo obbligatoriamente avere una polizza che copre i danni che noi possiamo essere chiamati a rispondere. Quindi io tampono la persona che è davanti questa persona a questa persona io posso a costa proprietaria io posso rovinare solo la macchina quindi mi creo 5.000 euro di danni nella parte posteriore dell'auto oppure gli faccio anche male perché dal contracolpo questo ha una distorsione si spacca un braccio un polso perché dal volante una distorsione al racchide cervicale quindi posso essere chiamato a rispondere anche da un punto di vista penalistico che sono due binari che sono spesso paralleli e solo in determinate situazioni possono incrociarsi in questi in tutte queste situazioni noi dobbiamo cercare di elaborare nel momento in cui mettiamo in piedi un corso un accompagnamento in un'escursione o in qualunque gita che noi andiamo a fare dobbiamo mettere preventivamente sul nostro tavolo tutta una serie di conoscenze che ci permettono di limitare sempre di più il rischio di cadere e di inciampare in qualche situazione in qualche situazione strana questo perché perché se io vado esente da responsabilità quindi non ho non mi vengono imputate delle responsabilità nel momento in cui compio una determinata azione chiaramente non potrò essere condannato penalmente e anche dal punto di vista civilistico non abbiamo delle responsabilità nel momento in cui invece la mia condotta produce un danno e questo danno si dimostra che è colpa mia è chiaro che lì c'è tutta una grande salita da parte mia per cercare di limare e limitare i danni il danno economico ovviamente è un danno il danno patrimoniale è chiaramente un danno economico quindi qualunque danno che io faccio il caso che vi dicevo prima ho tamponato 5.000 euro all'auto e il soggetto tamponato ha una lesione questa lesione verrà quantificata da un medico legale e trasformata anche questa in denaro quindi io questo tamponamento mi ha creato 8.000 euro di danni 5.000 alla macchina e 3.000 alla persona quindi mescolo i due tipi ma sempre l'aspetto è un aspetto economico quindi cosa mi serve l'assicurazione cosa mi serve l'RCT mi serve a tenere in denne il mio portafoglio il mio patrimonio il mio appartamento la mia casa i miei beni da un danno che sono costretto a dover pagare a un'altra persona per avergli creato quel tamponamento o quella o quella ulteriore ulteriore fatto ulteriore esempio che poi io sono per strada essendo per strada mi muovo pensando che ho le cuffie e mi giro di colpo muovendo un braccio e do la botta in faccia a quello che mi passa di fianco praticamente gli do una sberra e gli faccio cadere gli occhiali non l'ho fatto apposta non lo volevo certamente più chiare ma gli ho creato un danno che può essere solo il fatto che gli ho rotto un paio di occhiali a 300 euro che era appena uscito dall'ottico e gli occhi fatti cadere per te e si sono spaccati oppure li posso aver spaccato ha fatto due uno spacco sulla fronte e quindi se è un uomo o se è una donna se è giovane o se è vecchio o scusate se è giovane o se è più anziano ovviamente questo danno i punti di cicatrice che colpisco che ho dato col mio colpo e sono stati sotturati e sono stati così curati a un certo punto il medico legale dirà quanti punti di invalidità ho che vengono trasformati in denaro quindi tutta questa situazione per farvi capire che la responsabilità non ce l'abbiamo solo quando andiamo in montagna accompagniamo come cai delle persone la responsabilità di quello che facciamo ce l'abbiamo da quando ci alziamo al mattino mettiamo i piedi giù dal letto e usciamo di casa molti di voi anzi quasi tutti voi avranno nella polizza assicurativa la quale del capofamiglia se davanti a una finestra faccio cadere qualche cosa in testa o scuoto la coperta o un panno e dentro c'è una spazza di legno che guarda caso finisce in testa quello che passa sotto ovviamente non è che posso far finta di niente il danno l'ho creato questo si alza mi vede viene a suonare dice oh amico qua mi hai spaccato la testa e adesso ho bisogno di essere risarcito quindi questo è il quadro generale con degli esempi molto passati nel termine in terra molto semplici che però vi danno l'idea di che cosa vuol dire essere passivi di avere una responsabilità ed essere passivi di essere passivi di una richiesta di risarcimento danni allora mettiamo mettiamo questa finestra vista schermo allora schermo intero vedete la prima pagina si 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 vede benissimo perfetto allora quindi entriamo subito velocemente nel quindi abbiamo detto che vi farò una piccola breve carrellata sulle fonti le principali entriamo nell'ambito delle definizioni diremo che cos'è la responsabilità civile penale quello che vedremo e poi il principio dell'affidamento che è un principio molto importante che però non è codificato e quando ci arriveremo appunto capirete di cosa parliamo fonti allora conoscete essendo in CAI che nel centenario del CAI nel 1963 è stato appunto istituito restituito come legge il CAI che aveva cambiato nome da club era diventato centro alpino italiano nell'ambito del trentennio fascista poi è tornato a richiamarsi club alpino italiano nell'85 sono state fatte delle dopo quindi una ventina d'anni sono state fatte alcune modifiche è stato ampliato sono state ampliate gli articoli ma soprattutto l'articolo 2 come vedremo per quello che sono le attività che il CAI svolge nell'ambito della sua nei propri principi istituzionali la legge di riordino delle guide 89 capirete anche perché parliamo anche di guide che noi di guide non sono dei professionisti ma non avremo niente a dire ma vedremo che all'interno di questa legge c'è un richiamo al CAI per cui noi siamo inseriti anche la loro legge come richiamo per dire che il CAI esiste e fa queste determinate cose il codice civile e il codice penale come abbiamo detto prima per quanto riguarda la responsabilità civile e quindi per quanto riguarda l'esarcimento del danno e un indennizzo patrimoniale e il codice penale le disposizioni amministrative e i regolamenti e i regolamenti disposizioni amministrative perché la nostra attività potrebbe portarci anche a subire delle cosiddette multe dal punto di vista amministrativo e anche i regolamenti CAI perché ben sapete che il CAI ha dei propri manuali ha delle proprie linee guida ha delle dà delle indicazioni per quanto riguarda l'attività che viene portata avanti vi ho messo qui l'articolo 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 2 per cui in rosso potete vedere che la prima cosa che ci differenzia da tantissime da quasi tutte le altre associazioni è che il club alpino prevede a favore dei propri soci ma anche di altri quindi noi possiamo svolgere attività anche ad altri sapete che per un'escursione potrebbe partecipare anche un soggetto che non è socio CAI dovremmo fare tutta una trafida dell'assicurazione e quant'altro però inizialmente possiamo anche proporgli di venire a vedere come funziona il CAI e permetterli di partecipare alle nostre uscite poi abbiamo nell'ambito dell'articolo 2 tra questi tre punti principali quindi provvede alla diffusione alla frequentazione della montagna e alle organizzazioni iniziative alpinistiche e escursioni sistologiche organizzazione alla gestione di corsi addestramenti di attività alpinistiche quindi i famosi titolati che noi ci facciamo i nostri i nostri corsi e alla formazione di istruttori necessarie allo svolgimento di questa attività quindi io non solo preparo ma mi preparo anche i soggetti che vanno a essere i cosiddetti titolati che vanno a ottenere questi determinati corsi nella legge dell'89 che è quella appunto sulle guide alpine l'articolo 20 dice che il titolo è proprio scuole e istruttori del CAI conserva la facoltà il CAI di organizzare scuole e corsi di aggiornamento a carattere non professionale quindi e per la formazione dei relativi istruttori quindi questo perché perché sono state intrecciate le leggi in modo tale che non ci sia sapete benissimo che c'è l'esercizio abusivo della professione quindi se non ci fosse questa norma da parte nostra noi come titolati che andiamo a fare attività passate in termini di insegnamento di forma e prima di formazione io sono istruttore di sialpinismo quindi prima ho fatto un percorso d'allievo poi sono entrato come aiuto istruttore facendo un determinato percorso poi ho fatto un percorso per diventare istruttore e quindi è chiaro che io mi sono formato all'interno delle norme che mi sono state portate avanti all'interno del CAI mentre i professionisti le guide sono a pagamento i non professionisti noi lo facciamo gratuitamente abbiamo il rimborso spese se portiamo fuori per due giorni ci viene rimborsato il viaggio eventualmente il discorso del pernottamento in albergo quindi abbiamo già introdotto il titolato CAI il qualificato CAI e il capogita come abbiamo detto prima queste tre macro aree le accompagnatori titolati o accompagnatori qualificati chi sono? sono quei soggetti come ho detto prima che hanno superato un determinato percorso all'interno del CAI e quindi hanno ottenuto o un titolo o una qualifica quindi il titolo è qualcosa di superiore alla qualifica quindi parliamo di titolato e di istruttore sezionale o accompagnatore sezionale qualificato accertato al CAI per una specifica disciplina quindi io sono istruttore di sciolpinismo quindi ho fatto il percorso e sono arrivato lì potrei avrei potuto diciamo meglio diciamo il passato passare a diventare titolato nazionale di primo livello ma mi sono fermata al titolo regionale quindi mi permette però di tenere corsi nell'ambito della mia scuola nell'ambito regionale per partecipare e formare appunto o nuovi titolati se faccio un corso di formazione o di condurre degli allievi in un determinato in un determinato corso chi è invece il capo Gita? il capo Gita è colui che in base a un elenco di nomi che ogni sezione ha di soci e di volontari che conoscono la montagna si propongono per tenere e per portare un determinato sabato una determinata domenica delle persone a fare quel sentiero a fare quella ferrata a fare quel trekking di qualche giorno e quindi io ricevo un incarico direttamente dalla mia sezione dal consiglio quindi non ho un percorso formativo specifico perché non ho seguito un corso come dicevamo prima e quindi in teoria non ho un bagaglio culturale standard anche se poi dopo ho una grande esperienza e quindi ovviamente posso aver acquisito un bagaglio culturale ugualmente però il capo Gita normalmente non lo ha perché non può sostenere un esame e quindi non ha questo tipo di attività anche se io sono stato presidente anche della sezione per 6 anni della sezione di Reggio Emilia facevamo per il capo Gita una serie di lezioni una era una serie come questa che era appunto una serie sulla responsabilità per far capire esattamente dove andavano a parare cosa poteva essere per fare e quindi non sottovalutare il fatto di dire ok questa gita la conduco io e la organizzo io qui conduco e organizzo con quella sezione che dicevamo prima quindi mi riporto sempre al fatto che io quel giorno lì sono sul territorio a fare l'escursione con i ragazzi o con gli allievi e quindi è valutato invece idoneo dalla sezione quindi è il consiglio del presidente che a inizio anno ogni tot mesi come ogni sezione si regola va a consiglio va a verbale un programma sezionale per cui si dice nei primi tre mesi la sezione X organizza questi tipi di escursione a bcd il giorno 1, 2, 3, 4, 5 e deve essere approvato quindi il consiglio e il presidente deve avere un occhio di riguardo quindi non è per sfiducia ovviamente di chi si propone però capite bene che proporsi per fare un'escursione in collina con 350 metri di dislivello e un giretto di tre ore e un conto e organizzare un trekking con delle ferrate con 1000-1200 metri di dislivello in cui c'è da seguire una traccia quantata occorre ovviamente una conoscenza e quindi la semplice la buona volontà non sempre sono sufficienti a far sì che possa essere sicura in quell'ottica che diremo tra poco la mia la mia escursione entriamo sulla responsabilità quindi nel momento in cui io mi accingo a svolgere un'attività all'interno del CAI corsi o escursioni posso creare un danno posso creare un danno a me stesso oppure lo posso creare all'allievo o a un socio o a un non socio o anche a un esterno perché abbiamo detto che avremo la possibilità anche abbiamo anzi non avremo abbiamo la possibilità anche di far partecipare alle nostre escursioni alle nostre attività anche i non soci se faccio male se faccio male a me stesso che cosa significa significa che io avrò una polizza infortuni il CAI in attività istituzionale ha istituito una polizza col bollino sapete che ci tesseriamo e abbiamo vari step ma di queste cose ne parlerà più ampiamente ovviamente più dettagliamento Giancarlo io mi faccio male ho una polizza assicurativa primo livello di 50.000 euro e 80.000 in caso di 50.000 in caso di morte 80.000 in caso di infortuni che cosa vuol dire? vuol dire che il mio corpo in base a un determinato danno il caso che dicevo prima sono scivolato sul sono scivolato su un sentiero ho battuto la terra mi sono spaccato un polso questo polso verrà valutato da un medico legale il medico legale dirà che ho x punti e in base alle condizioni di polizza facciamo che abbiamo 8 punti perché la franchigia è di 5 quindi i primi 5 non vengono pagati gli ulteri i 3 il punto 6 7 e 8 vengono pagati in base a che cosa? in base al massimale che io ho stipulato con la mia polizza se io faccio un'assicurazione da 20 euro che è quella di 12 euro che è quella del CAI con i numeri che abbiamo sono assicurato per 50 e 80 mila euro se io faccio una voglia una polizza da 350 a 500 mila euro chiaramente devo essere disposto a pagare 700 800 1000 1500 euro perché? perché quell'evento in cui io vado a cui sono sottoposto e mi sono fatto male vengo pagato in base al contratto che ho stipulato più pago più eventualmente riceverò in caso di infortuni però l'infortunio non è una polizza che metto lì e i soldi mi rimangono mi rimangono lì alla fine mi togna il capitale è un investimento che io faccio sulla mia sicurezza nel momento in cui non mi succede nulla è lì l'ho pagata e sappiamo benissimo che non mi tornano indietro quindi la polizza infortuni ha questo valore la polizza invece RC auto è come dicevamo prima il discorso della valutazione se faccio male o meglio qualcuno che io ho con me in escursione si fa male e viene data a me la colpa perché non gli ho detto che non doveva fare una determinata cosa e questo si fa male nell'ambito della RCT i massimali sono imposti sono dati per denome e lo stato dell'ordinamento italiano che dice quali sono le regole per cui il punteggio che viene determinato viene determinato in base a dei parametri standard in base all'età che io ho perché perché se io mi spacco un polso a 15 anni io il polso rotto me lo porto per tutta la vita poi posso guarirco però il mio osso se mi fanno a 70 anni mi vanno a fare una radiografia vedo che io ho un osso rotto da quel po' quindi io questo danno me lo porto avanti per tanto tempo se io mi faccio male a 60 anni è chiaro che questo calcolo viene fatto sulla vita media vita media 74-75 anni con dei parametri particolari è chiaro che io ho un danno lo stesso danno lo stesso punteggio prendo molto meno che se fossi giorno capite perché io questo danno me lo porto per più tempo ci sono dei parametri da utilizzare età punteggio taxi è un incrocio tra nord e sud tra est e ovest e nord e sud e vado a trovare che io ho 60 anni ho 7 punti e ho questo punteggio è quello che mi viene dato che non ha nulla a che vedere con la polizia infortuna che invece è un rapporto contrattuale che io stico per cui io vengo risarcito in base a quello che ho investito pagando la somma questo tipo di oggetto di risarcimento quindi può essere ovviamente di tipo economico questa richiesta è avanzata nei confronti può essere avanzata io che sono istruttore nei miei direttamente nei confronti ma chiaramente il CAI mi tutela con una polizza che copre questi danni e quindi normalmente la polizza del CAI che viene interviene in questo caso che possa portare a una sanzia amministrativa ma questo è il caso che ci interessa meno le responsabilità per quanto qua ci interessa come sono l'avete già capito civile e penale per quanto riguarda l'attività civile ci ricolleghiamo al discorso che dicevamo prima rispetto e perché c'è questa differenza tra responsabilità contrattuale e stracontrattuale perché mentre la responsabilità è contrattuale e quindi è il discorso della guida alpina che mi porta sul Cervino di 800 euro mi porta sul Cervino e mi faccio male durante questa attività io basta che dica che mi sono fatto male durante un'escursione con la guida alpina Pinco Pallino che andavo sul Cervino poi è la guida alpina che dovrà difendersi cercando di dimostrare che io mi sono fatto male per delle situazioni che non hanno nulla a che vedere con la con la sua attività faccio un esempio sono in montagna e sono dietro la guida mi cade un sasso in testa può avere colpa la guida alpina oppure no può essere imputata oppure no può essere imputata sì o no dipende se mi ha fatto passare sotto una 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 balza in cui lì sopra c'è del ghiaccio si sciole sappiamo che spesso scaricano e ci sono delle frane se invece io sono in un passaggio normale in cui non è prevedibile che possa esserci una situazione di questo tipo è chiaro che la guida potrà dire o stavamo passando ha colpito lei ma poteva colpire ma non è colpa di nessuno ti porto invece dove so che c'è un pericolo oggettivo che ci siano spesso se passo sotto una seraccata invece di fare un giro largo perché taglio è chiaro che se mi si scarica della neve dei pezzi di ghiaccio sulla testa dopo faccio fatica a dire che ho fatto la scelta giusta quindi è fuori discussione che ci può essere una situazione di questo tipo nell'attività invece extra-contrattuale il principio del neve nel leder che vuol dire che chiunque cagione questo è l'articolo 2040 del codice civile non parlerò e non darò dei riferimenti agli articoli perché tanto l'importante è capire i concetti chiunque cagione per colpa o dolo lasciamo perdere il dolo il dolo è la volontarietà di voler fare una determinata situazione un danno ingiusto ad alto è obbligato a risarcire il danno quindi è la differenza dove è determinata è determinata da questa situazione ossia mentre nell'aspetto contrattuale io basta che dica che ero in un contratto con te per fare questo tipo di attività quindi se tu che devi dimostrare di aver fatto di tutto perché questa cosa non è imputabile a te nella causa civile extracontattuale sono io che ho subito il danno che devo dimostrare in tutti i modi che quel soggetto mi ha fatto mi ha creato il danno e solo in quel caso lui verrà lui verrà condannato quindi c'è un'inversione tecnicamente chi è che deve dimostrare che un conto è difendersi e un conto è attaccare quindi nel momento che attacco devo anche dimostrare tutto quello che è la mia quali sono le azioni che ritengo che lui abbia sbagliato che abbia commesso per far sì che possa essere condannato nell'altro caso invece no quindi perché ci sia responsabilità non è detto che ci sia solo un'azione ci potrebbe essere anche un'omissione non faccio mettere il casco sotto mentre sono inferrate è chiaro che io non c'è un'azione diretta ma io ho omesso di fare una determinata situazione e tutelare un determinato soggetto colpa o dolo abbiamo detto quindi il dolo normalmente non viene neanche considerato ci deve essere un nesso di causa tra quello che è successo e quello che non è successo è un danno ingiusto per esempio c'è una persona che è scivolata mentre è scivolata è inciampata perché stava facendo una fotografia che si stava togliendo si stava togliendo lo scaldacollo e mentre se lo toglie è inciampa io per prenderlo lo prendo per un braccio mentre lui stava cadendo di sotto e questo gli spacco gli giro un polso è chiaro che io questo evento ha interrotto la situazione quindi lui non mi potrà venire a dire ah beh sì ok ma hai salvato però mi hai spaccato il polso quindi alla prossima volta ti lascio cadere di sotto quindi hai fuori e discussione che c'è questo si chiama un annesso di causalità tra l'azione e l'evento che si è prodotto in modo tale che ci sia questo filo che tenga unito le due situazioni e il danno è ingiusto perché ovviamente rispetto al caso che ho detto che ho detto prima non sono stato attento a quello che hai fatto e quindi nel senso del 2040 il danno è ingiusto perché si è creato per una tua colpa e non c'è nessun altri esimenti che ti possono dire che non ne hai responsabilità quando entriamo nella colpa la colpa è di due tipi si parla di colpa generica e colpa specifica colpa generica senz'altro avete sentito parlare di negligenza imprudenza imperizia ovviamente quindi quando è che uno è negligente quando uno fa le cose lo si dice normalmente quello è negligente trascura le cose lo fa con scarta attenzione quindi di fatto non faccio quello che devo fare quindi dovrei comportarmi in un certo modo e invece mi comporto così non facendo attenzione distraiendomi o quant'altro quindi avevamo fatto l'esempio del cosiddetto buon padre di famiglia quindi è la persona media che dovrebbe che dovrebbe in quella quella minima attenzione che nel caso simile deve essere e deve essere utilizzata è imprudente invece quando vengono meno le regole di prudenza quindi faccio quello che non devo fare quindi imprudentemente mi porto sotto una serracata a mezzogiorno invece di farlo alle 4 del mattino o fare un giro più largo se è mezzogiorno proprio perché non sapevo che con la mia esperienza non sarei dovuto passare di lì in perizio invece è colui che svolge una determinata attività senza avere senza avere senza aver fatto questa attività in un modo passatemi il termine tecnico che poi non vuol dire e lo vedremo dopo una colpa specifica però avere quella minima capacità per poter fare quelle cose che dovrei saper fare quindi se io non so usare per esempio la bussola o la carta ecco che allora mi possa dire che sono in perito quindi vuol dire che non ho quella minima conoscenza per fare quel tipo di attività diventa specifica quando invece vi sono delle norme e delle regole speciali che regolano quel tipo di attività quindi la colpa specifica è nell'ambito appunto delle regole tecniche che abbiamo detto poc'anzi per cui non so fare quello che dovrei fare secondo le norme del CAI quindi se il CAI mi dice che è una sosta o una corda fissa in un tratto esposto la devo fare in un determinato modo io la devo saperla costruire devo rendermi conto se l'ho costruita bene se gli ancoraggi sono sono sufficientemente robusti devo fare in modo che le persone non solo nel momento che la costruiscono devo fare anche in modo che le persone che attraversano devono tenerla una distanza dall'altra per non caricare gli ancoraggi per non trovarsi che se si vuole uno si trascina tutti gli altri aggrappoli è chiaro che vi è una norma generale delle linee guida dei regolamenti delle manuali che mi dicono come mi devo comportare in una determinata situazione questo per farvi capire che soprattutto parlo nell'ambito del capogita perché i corsi chiaramente c'è la formazione c'è qualcuno che ti segue e che ti spiega quello che devi fare e quindi ti promuove passate nel termine a diventare qualificato diventare titolato oppure ti dicono guarda sei scarso su questa cosa rifai altri mesi magari di studio vai a fare delle altre attività poi rivalutiamo il discorso quindi sei rimandato se non diciamo così bocciato segato in tutti gli effetti perché proprio non sei capace questa ovviamente è una tutela per il CAI è una tutela per il CAI è una tutela per la persona che eventualmente non è preparata a condurre perché se dovesse condurre e fare sì che si creino delle situazioni di pericolo di danno dopo ovviamente forse non si è neanche reso conto ma sarebbe un problema nascono poi il discorso dell'assicurazione ed è un problema anche per il presidente o per il consiglio che ha avvallato che il soggetto Tizio CAI e Sempronio non aveva determinate qualificate però l'ho portato invece che fare l'escursione sulle colline e gli ho fatto fare un trekking di quattro giorni con tre ferrate di 700 metri di dislivello e classificate edifici è chiaro che tutto questo racchiude una responsabilità e quando parlo di CAI parlo di CAI a grandi linee quindi a grandi un grande contenitore in cui ci mettiamo dentro tutti ovviamente ovviamente può esserci quest'articolo indicato nel 2007 concorso del fatto colposo del creditore questo perché il creditore è colui che si è fatto male che dice che io ho subito un danno e quindi sono a credito a livello economico da parte tua dell'assicurazione del CAI di chi per essa per quanto riguarda il danno che ho subito però posso essere anche in concorso perché io stesso nonostante mi abbiano detto che non dovevo fare determinate situazioni mi sono comportato in modo poco negligente non ho ascoltato e quindi mi sono fatto male mi viene sempre l'esempio dei primi del concorso di colpa nell'RC auto per cui se due auto in un incroncio si scontrano bisogna dimostrare chi dei due è passato dando non dando la precedenza oppure quando io trasporto una persona sulla mia macchina questa non si mette la cintura tampono la persona davanti io ho la cintura rimango bloccato questo di fianco a me con la testa da una crappocciata contro il parabrezza ci viene la ragnatela ovviamente il liquidatore Giancarlo Spagna e i suoi amici liquidatori dicono ma come mai hai dato una crappocciata di contro secondo se il vetro è talmente forte che il parabrezza rientra all'interno dell'auto e quindi sarebbe un problema diverso nel tipo di urso ma se ci sei andato a finire te vuol dire che tu non avvii le cinture se non avvii le cinture vuol dire che il tuo danno in parte te lo pago ma non te lo pago al 100% perché ti potevi far male lo stesso ma non c'è la certezza ma c'è la certezza che se tu ti fossi messo le cinture non ti saresti fatto tanto male quindi do a un concorso un tempo si parlava del 70% quindi veniva ridotto di un terzo l'esercimento invece di prendere 10 e di soffrire il danno sarebbe 10 ma col concorso ti do 7 ecco questo era il caso poi ci sono altri tipi di casi di responsabilità per cui la responsabilità del 2041 la responsabilità dei patroni dei committenti le attività pericolose che ne abbiamo sentiti parlare e c'è una sentenza della Cassazione che appunto ha detto che il CAI lo debole la nostra attività ma è un'attività che deve essere considerata pericolosa perché viene fatta in montagna eccetera eccetera entriamo nell'ambito invece dell'ambito penale abbiamo fatto la classificazione dei due binari uno è il civile e uno è il penale il penale mentre il civile c'è qualcuno che eventualmente paga il danno che ho creato se ho la polizia assicurativa ovviamente se invece sono nell'ambito penale io faccio male a una persona io denuncio questa persona per il danno che mi ha creato quindi c'è un processo l'ordinamento statale italiano non può permettere che le persone commettano dei reati che possono essere colposi ovviamente non solo dolosi quindi se io tampono una macchina che mi è davanti faccio male non l'ho fatta apposta se mi ubriaco e ci vado addosso i problemi sono diversi ma qua entriamo in un altro ambito in questo ambito il soggetto mi querela quindi c'è un processo che lo Stato instaura nei miei confronti per cui c'è Massimo Bizzari che è l'indagato viene rinviato a giudizio divento imputato dopodiché vengo condannato quindi il processo ha queste fasi in quel momento lì io vengo condannato in nome del popolo italiano vengo condannato a x mesi di reclusione pena sospesa quello che potrà quello che potrà essere è chiaro che sapete perfettamente che in quel caso lì sono io e lo Stato italiano che ci guardiamo negli occhi per cui il giudice il tribunale il giudice di pace qualunque giudice sia mi guarda negli occhi e mi dice ti condanno a quella determinata pena la persona che mi ha querelato a cui ho fatto il danno ha varie possibilità può stare completamente fuori dall'aspetto penalistico viene solo a dire quello che gli è successo e quindi aziona un'azione di responsabilità civile o meglio aziona la causa civile nei confronti all'assicurazione e forse anche senza andare in causa tratta direttamente col liquidatore dice il liquidatore ti offre una determinata cifra io ritengo in base al mio avvocato che mi seguo al mio medico legale che l'importo del danno è corretto in base a quello che ho subito prendo i miei soldi e definita lì prendo i miei 10.000 euro per fare una cifra il soggetto che è penale si prende la sua condanna se io voglio entrare invece nel procedimento penale da parte offesa mi devo costituire parte civile quindi entro a tutti gli effetti divento parte del processo penale e in quel caso lì partecipo attivamente quindi posso interrogare posso produrre i testimoni posso produrre dei documenti controinterrogarò le parti farò la ringa finale in modo da vedere chiedendo ovviamente se io sono l'avvocato della parte civile chiederò la condanna del soggetto alla pena che il tribunale gli indicherà quindi io non entro nel merito che gli dà tre mesi sei mesi o un anno chiederò la condanna che viene indicata però chiedo che per il danno che mi ha creato il risarcimento di x euro il tribunale a quel punto lì potrebbe assolvere e chiediamo tutto condannare e farmi già dare e darmi già anche un aspetto civilistico oppure potrebbe se il danno è grosso condannarmi dal punto di vista penale e condannarmi in ambito civilistico a una provvisionale poi dicendo al parte civile però adesso devi andare a gestirti la causa civile con tutte le problematiche diverse sulla quantificazione del danno civile dal giudice penale in quel caso lì si sdoppia il procedimento anche qui ci deve essere un'azione o un'ommissione ci deve essere l'elemento soggettivo quindi da parte mia colposo o doloso e lo lasciamo sempre da parte e anche qui ci deve essere il nesso di causalità quindi tra quel filo conduttore tra l'azione e l'evento che porta poi a far sì che il tribunale possa vedere nel mio comportamento un reato e condannarmi per questo quindi nel momento in cui io vengo condannato il giudice e quindi il nome del popolo italiano può essere con un cominato un'ammenda o una multa e ho la previsione della privazione della libertà quindi l'arresto o la reclusione i casi di reato sono perseguibili ad ufficio o querela breve parentesi per spiegare questa cosa a querela vuol dire che è il soggetto come dicevo prima che ha preso la botta o che ho spaccato gli occhiali mentre muovevo il braccio questo mi denuncia quindi c'è un tipo di reato considerato in una fascia di reato ma che può essere promossa solamente se la persona sporge formalmente la querela e chiede che io venga condannato è invece perseguito d'ufficio quindi vuol dire che non ci deve essere l'impulso della parte a far sì che passa e che parta il procedimento penale ma soprattutto nell'ambito nostro quindi abbiamo omicidio colpo i casi più frequenti sono l'omicidio colposo quindi qualcuno che decede durante una nostra attività lesioni colposi che possono essere più o meno gravi ovviamente che un conto prende una distorsione o spaccarsi un po' e un conto rimanere invalide perché mi si spezza la schiena durante un'attività l'abbandono di incapace sono casi abbastanza rari però in letteratura qualche cosa si è sentito e adesso c'è il discorso anche della valanga perché diventa sempre dente molto più frequente quindi la differenza tra sentite parlare di procede d'ufficio a querela quindi nel momento in cui si procede a querela io ho 90 giorni di tempo per fare la querela io ci vado dopo 100 giorni quindi faccio passare 3 mesi e 5 giorni in quel momento lì io che sono viene depositata la querela parte lo stesso perché non hanno controllato i dati mi accorgo io che difendo la persona che è querelata mi accorgo che la querela è stata depositata e quindi chiedo il luogo procedere perché la querela è stata presentata fuori termine nel caso invece si proceda ad ufficio ovviamente la situazione non c'è ultimo punto principio dell'affidamento perché parliamo di principio di affidamento mentre prima abbiamo parlato di norme di leggi di codici di manuali qui il principio dell'affidamento non è non è codificato ma è un principio giurisprudenziale quando parliamo di giurisprudenza parliamo di sentenze vissute quindi di sentenze di giustizia vissuta quindi di sentenze che può essere il giudice di pace la corte di tribunale con l'appello la corte di cassazione però parliamo di sentenze per cui su un determinato fascicolo su una determinata problematica quel giudice giudice di pace fino alla cassazione ha deciso in quel determinato modo e quindi si è creato perché molto spesso le norme diciamo che noi abbiamo in Italia abbiamo una marea di norme la maggior parte delle nostre leggi sono leggi fatte bene le problematiche dicevamo all'inizio per ricominciare che poi dopo sono seguite male ma l'impianto normalmente sono leggi che tutelano e sono fatte bene non per niente veniamo da la nostra storia il codice sono i romani quindi è chiaro che la civiltà di allora sviluppata in quei termini non poteva che progredire e dare appunto dal punto di vista sociale una valutazione molto importante e molta attenzione però non ci sono non ci sono delle norme specifiche non vado a trovare qual è la legge che mi dice che è quel particolare caso quindi si crea una situazione in itinere per cui un caso il secondo caso il terzo caso per cui si forma passatevi il gioco di parole un caso quindi tutte le volte che succedono fatti di quel tipo stiamo notando che la giurisprudenza risolve sempre in quella maniera quindi è fuori discussione che se mi vado a studiare un caso di quel tipo lì vado a vedere qual è il principio quando si dice che è normal quando si dice con orientamenti granitici granitici spesso se sentite dire qualche commento di questo tipo di qualche avvocato qualche commento di teoria orientamenti granitici vuol dire che da tempo tutti i giudici dicono la stessa cosa per cui quel caso viene risolto solo con quella metodologia tutto il resto è stato è lasciato fuori quindi tutte le volte in cui vi è un soggetto che ha un obbligo giuridico di attivarsi una cosiddetta posizione di garantia perché non si verifichi un evento dannoso il cosiddetto da contatto sociale non da contratto sociale contatto sociale quindi tutte le volte in cui io mi trovo in una situazione tale che giuridicamente dovrei garantirne un altro dovrei garantire un altro soggetto perché non si verifichi un determinato evento dannoso per lui è il tipico caso del titolato di un corso e chiaramente nei corsi abbiamo gli allievi quindi titolato maestro corsista allievo quindi siamo su due livelli su piattaforme completamente diverse quindi è chiaro che quel soggetto viene a fare il corso solo esclusivamente perché sa che c'è il titolato dell'ossialpinismo piuttosto che dell'escursionismo piuttosto che delle ferrate perché altrimenti non lo potrebbe fare e quindi è chiaro che in questo tipo di caso io devo avere una ho un principio dell'affidamento perché queste si affidano a me perché non farebbero mai un'attività come quella senza di me e lo può essere mentre nel caso del corso normalmente lo può essere anche per il capogita ma le escursioni normalmente sono fatte per gente che ha già una certa esperienza gente che ha già una sua capacità di partecipare ad escursioni in montagna quindi il principio dell'affidamento non sorge automaticamente perché deve essere non è detto perché io di fianco a me ho uno che non sa fare una cosa perché ci sono io certamente lui si è affidato a me io non ho accettato questo affidamento io non mi sento in quel momento di portare con me una determinata persona e quindi se non scatta anche in me questa situazione questo reciproco reciproco affidamento l'allievo si affida il titolato il titolato sa che deve portare l'allievo a fare il corso quindi è chiaro che questa catena si unisce e io mi trasciro nel campo del capogita invece invece no però le problematiche dove possono possono essere possono essere per cui se io l'esempio di un'escursione lo dico tra poco perché così non interrompiamo il discorso quindi è il caso di colui che si rivolge al titolato e confida la sua esperienza quindi presto il proprio consenso all'effettazione della gita quello che abbiamo detto poco fa via questo atteggiamento che come abbiamo detto lega una parte a quell'altra per cui io sono con il CAI e quindi mi sento sicuro delle volte faccio l'esempio se io io non ho mai fatto sub subacquea qualche volta ne ha per conto mio però insomma cose se dovessi andare a fare e mettermi le bombole ovviamente io spero che chi mi deve portare giù sia nelle condizioni di sapere quello che fa quindi io mi affido completamente a lui se lui mi dice di fare A io devo fare A perché se sono sott'acqua e non faccio quello che mi dice lui immagino da per conto mio che c'è qualcosa che non quadra e non torno a galla quindi è fuori discussione che io mi affido completamente all'ultimo quindi anche noi quando abbiamo questa situazione il soggetto un principiante che non è mai stato in ferrata ovviamente si affida ai corsi CAI perché venga una progressione nella sua capacità tecnica di progredire in modo tale da arrivare a finito del corso a poter fare qualche escursione e qualche ferrata per conto su ma la prima non l'avrebbe mai fatta poi qualcuno che si butta su con i sandalini e un corvino legato in vita succede di tutto e lo vediamo e ne vediamo e ne vediamo e ne vediamo di tutti i colori quindi il discorso di incidente se c'è l'affidamento ovviamente c'è quel discorso del nemine leder che abbiamo detto prima quindi io devo creare ho creato un danno e devo pagarne le conseguenze è diversa la situazione qui è il caso di due amici che si ericono in montagna per un'escursione e quindi quando non c'è il consiglio dell'affidamento è chiaro che se io e un mio amico andiamo in montagna a far nasci alpinisti che siamo sullo stesso livello o siamo in queste condizioni di parità poi uno dei due si fa male non scatta l'affidamento perché io ci sarei ci potevo andare per conto mia ma se io invito un mio amico a fare qualcosa di strano che lui non ha mai fatto è chiaro che in quel caso lì potrebbe sorgere il discorso dell'affidamento sicuramente gli dovesse succedere qualcosa e dice oh Massimo ma io ero venuto lì però ho fatto un passo in più mi dovevo fermare un passo prima per evitare di farmi male perché porca o cane è successa una cosa che non va assolutamente bene quindi chiudiamo essere volontari non significa come viene detto non avere responsabilità questo l'abbiamo detto e lo sappiamo può esserci responsabilità del CAI per non aver istruito e dobbiamo avere il proprio accompagnatore quindi quando dicevamo che noi per legge abbiamo la possibilità di in dialetto si direbbe ce la suoniamo e ce la cantiamo cioè non solo facciamo i corsi ma ci creiamo al nostro interno i titolati per poter fare i corsi quindi la formazione viene fatta all'interno dei nostri non viene qualcuno dall'esterno che ci fa la valutazione può esserci responsabilità dell'accompagnatore che si è causato un danno al partecipante alla legge può esserci responsabilità dell'accompagnatore se un partecipante si fa male a un terzo per non aver vigilato può esserci diminuzione di responsabilità per il fatto di colpa dell'allievo partecipante al concorso di colpa che dicevamo prima quindi primo dato dobbiamo rimanere assolutamente aggiornati sulle tecniche specifiche perché questo ci permette come ho detto all'inizio della serata di avere quel bagaglio culturale che ci permette già con gli occhi di capire se quella situazione è una situazione possibile o è una situazione che potrebbe creare delle grosse problematiche per cui se io vado a fare un'escursione e trovo che c'è un cavo a un certo punto della serata che lo muovo si stacco qualcosa non dico non succede nulla tutti avanti e via al massimo fermo tutti vado a controllare quello che c'è e se le condizioni perché io devo sempre mettere in considerazione che qualcuno può scivolare può cadere a peso completamente attaccato al cavo e quindi devo andare a fare le mie valutazioni vado sul sentiero mi trovo inaspettatamente un canale di 7 metri però di là non riesco a passare perché è tutto ghiacciato io non ho l'attrezzatura non ho una piccozza per gradinare non ho una corda fissa da poterli in quel caso devo pensarti due volte quindi è meglio rinunciare tornare indietro rispetto a correre il rischio perché se vado in via per conto mio posso fare qualunque cosa ma nel momento in cui ci vado con gli altri devo stare attento pensate sempre all'esempio della macchina se io vado ai 130 so che vado ai 130 ma so anche che se vado ai 130 ci vuole molto più tempo per reagire ci vuole molto più o meglio il tempo di reazione è lo stesso ma lo spazio per fermarmi è molto diverso se vado ai 180 ai 200 le cose si cometo perché capisco perfettamente che fare un incidente ai 180 rispetto ai 60 cambia e ha maggior ragione se io sono da solo o se ho qualcuno con me in macchina quindi sono responsabile anche di chi ho di fianco quindi tutte le volte in cui io sono in una condizione di dover gestire nel bene o nel male ma nel bene perché noi ci vogliamo divertire delle escursioni CAI dobbiamo metterci nelle condizioni di stare sempre super come si dice abbottonati senza mai cadere in negligenza in prudenza o in perizia e non voglio neanche sentire il discorso di non sapere fare le cose che CAI mi chiede ovviamente però molti incidenti e molti problemati nascono da queste e spesso sento dire dai presidenti o da qualcuno del comitato ma se facciamo così allora chiudiamo tutto e va bene io te l'ho detto poi se succede qualcosa non venirete a lamentare dite che il CAI non ti tutela che il presidente di sezione che in quel caso lì io come presidente non gli davo l'autorizzazione a me è capitato anche di discutere litigare ma se è così allora lascio tutto guarda è meglio che lasci tutto e ci lasciamo in buone in buone mani piuttosto che tu faccia un disastro che ne paghi le conseguenze e nonostante ti abbia detto di no le poi le devo pagare anche io quindi le situazioni sono veramente delicati se si tratta di escursioni sezionali fare sempre provare dal consiglio sezionale le attività e l'eventuale variazione ne parlerà Giancarlo Lumpo preparare le escursioni con scrupolo a casa meteo percorso difficoltà e mettere le rettive informative sulla locandina perché uno dei problemi che dobbiamo capire è non solo le cose che le abbiamo dette ma dobbiamo anche riuscire a dimostrare le cose che abbiamo detto di dire quindi se io sulla locandina ci metto ci troviamo tutti alle 7 e andiamo a fare questa escursione e andiamo su io quando ho il Cusna mille metri di slivello e non dico che c'è la neve quanta si presenta la gente poi a metà qualcuno si fa male e dicevo ma tu mi hai detto che c'era una gita così mi hai detto che era facile poi guarda dove ci siamo trovati quindi se io comincio a mettere i dati necessari e importanti per durata di slivello che condizioni posso trovare qual è l'abbigliamento che mi devo mettere quindi mezza paginetta della anzi forse meno di mezza paginetta della locandina con questi dati fondamentali in modo tale che la gente sappia che devo stare in giro 5 ore invece che 3 oppure 8 devo fare 250 metri ma devo fare 800 devo stare via a dormire e devo tornare indietro di notte ci vuole affrontare e quindi c'è una situazione che io devo assolutamente mettermi in testa e prepararle a tavolino devo verificare la capacità e condizioni di partecipanti se non si conoscono chiedete loro non dovete avere temore lasciate fuori le persone di cui non vi fidate ma si potranno incavolare potranno dirne di tutti i colori ma dovete fare spiegare che non è un problema che mi senti patico non è un problema di razzismo che sei alto bello biondo o bionda con i capelli azzurri sei di colore chiaro o di colore scuro no è un discorso che non ritengo che tu abbia le condizioni le capacità per fare quel tipo di percorso vieni un'altra volta facciamo qualcosa poi potrai anche sbagliare ma oggi la responsabilità è mia e con me non ti prendi controllare i materiali e equipaggiamenti quindi escludere chi non è ritenuto idoneo e non ha attrezzatura tecnica o comunque non ritenuta adeguata perché questo è fondamentale se scendete dal pullman e qualcuno si è dimenticato il casco è andata a fare una ferrata quello rimane sul pullman non c'è pezza a meno che vogliate togliere il vostro casco l'ho data a lui poi se vi fate male voi poi è un altro paio di maniche però questa è la situazione informare sempre dei pericoli specifici sia a casa soprattutto il luogo quindi devo cercare di capire cosa c'è devo spiegare le situazioni e controllare le condizioni del percorso una volta il luogo questa è la chiusura della situazione quindi mi sono proprio perché siamo in un ambito anche di capigita queste indicazioni fondamentali sperimentate sulla mia pelle da fortunatamente non è successo niente però da istruttore un ragazzo che aveva fatto due corsi non uno due corsi primo livello e secondo livello si è presentato dopo un anno e mezzo a un'escursione doveva andare su Altonale a fare il Pisgania quindi una dita abbastanza lunga con del dislivello molto insomma questo ho detto no no ma sono allenato non ci sono problemi dopo 20 minuti che abbiamo cominciato a descese e indietro non potevamo più tornare ci siamo resi conto che io e il mio compagno e il mio amico abbiamo detto sarà una giornata pesante la fortuna ha voluto che la giornata sia stata una giornata di sole eravamo sul ghiacciaio quindi era impossibile perdersi era impossibile non capire la traccia però noi siamo arrivati giù tre ore dopo gli altri ed eravamo a fine maggio i primi di giugno quindi potete immaginare se fosse a un certo punto si chiudeva e noi eravamo lì tanto per dire a un certo punto su un dosso ormai era andato in panico non ce la faceva più gli ho fatto togliere gli sci gli ho detto adesso scivoli fino in fondo col sedere poi quando sei giù li ho buttati sui giù di prendere perché altrimenti stiamo qua più ragionato e di capire che non possiamo fare un iglu e bivaccare qua bisogna che torniamo giù quindi non abbiate paura a escludere delle persone allora vi ho detto prima poi proprio adesso un minuto e chiudo questo è il sito del CAI se voi cliccate su CAI vi si apre questa pagina che trova l'associazione CAI associazione cliccate vi si apre questa pagina statuto bilancio circolari trovate assicurazioni cliccate sull'assicurazione questo è di ieri quindi proprio è aggiornata è aggiornata è aggiornata circolare 18 del 2021 copertura assicurativa del 2022 in cui sapete perfettamente tutto e adesso e vedete anche che c'è pollice del 2021 e del 2023 è quello che adesso poi farà e commenterà Giancarlo Giancarlo Spagna qui potete vedere la metà non mi sono dimenticato ma non è una sarà un affronto dell'esa ma è stato il nostro Presidente Generale ma mi sono proprio dimenticato ieri se l'ho fatto in fretta e non ho evidenziato responsabilità dell'accompagnamento in montagna sintesi delle elezioni tenute del Presidente Generale se qualcuno di voi ha partecipato all'elezione sulla responsabilità dell'accompagnamento in montagna del famoso REM questo è un sunto che quello che ho detto io questa sera in modo molto così molto discorsivo è racchiuso in questo poi se volete vi mando poi anche una dispensa di 5 o 6 pagine che riprende l'ordine anche delle slide in modo da avere un po' il punto della situazione nell'ambito della stessa pagina trovate le polizze quindi è importante anche conoscere le polizze perché oltre a sapere quello che devo fare e quello che non devo fare devo anche conoscere che se mi dovesse succedere qualcosa che cosa di che cosa sono coperto perché questo non stimola anche a stare frenati e non lasciarsi andare perché sappiamo che certi eventi magari non sono non sono coperti questo è il manuale di cui vi parlerà adesso Giancarlo e quindi adesso io esco eccovi qua interrompo la presentazione e io dovrei essere in video e lascio poi se avete delle domande io chiaramente non riuscivo a vedere la chat quindi non so se per caso ci sono anzi la vedo adesso allora guardiamo subito cosa ha pregiunto che a livello penale a livello economico non aveva la personalità giuridica l'assicurazione è grandissima allora questa è la personalità giuridica è un discorso di andiamo fuori e fuori discorso ma brevemente la personalità giuridica riguarda il discorso dell'associazione quindi le vostre sezioni se hanno la personalità giuridica coprono eventuali danni in cui dovesse essere coperte dovesse essere imputato alla vostra sezione una qualche colpa col patrimonio come una società rispetto all'associazione semplice che invece risponde il presidente e i consiglieri quindi avere la personalità giuridica è un salvaguardare al di là di tutte le polizze assicurative che abbiamo e questo è fuori discussione ma la situazione la situazione è questa vedo che Franco prego Tanzi che ha lasciato la mano sì ciao Massimo una domanda sulla tua slide 25 è stato molto chiaro però capita a volte che durante una escursione quindi con un itinerario già approvato dal consiglio direttivo mappa traccia e tutto quanto capita a volte magari di fare delle deviazioni per andare magari a vedere un particolare in quella zona che non è sull'itinerario che magari dista 3, 4, 500 metri dal sentiero nel caso in cui si fa questa variazione e c'è un incidente c'è una responsabilità da parte degli accompagnatori sicuramente forse negligenza no ma forse imprudenza no nel senso che voglio dire il discorso il discorso che se vai a cioè se tu vai a fare un'escursione in un punto in un posto e poi mi cambi itinerario e vai da tua altra parte devi fare la segnalazione ma se sei lo stesso percorso qualcuno dice ma lì c'è un albero c'è un vecchio abete un pino mugo c'è un un larice secolare da andare a vedere lo si va a vedere quello non è un problema se dovesse succedere l'incidente bisogna vedere come si è verificato non è perché sei fuori da il sentiero che ti eri prefissato e se vai fuori 500 metri succede l'incidente è chiaro che se per andare a vedere quell'arice mi fai passare su una passarella in legno con un buco sotto che è bagnato e in quel caso lì rientra tutto il discorso della responsabilità ma il fatto di andare fuori di qualche di 10 metri di 5 minuti per andare a vedere una cosa quello non cambia non cambia assolutamente nulla ok da vedere dove li porti in quell'ambito lì grazie se permetti il discorso appunto questo se fai un discorso discussionismo e poi invece per andare a vedere qualcosa devi fare una ferrata è chiaro che non era quello che avevi detto e la stupidaggine voglio dire però è chiaro che non era quello che avevi commentato come giustamente diceva Massimo e che avevi presentato al momento dell'uscita ok mi avete soddisfatto grazie grazie a te vado Massimo carico perfetto allora intanto mi presento Giancarlo Spagna molti di voi mi conoscono faccio brevemente il passaggio che uso fare sempre per spiegare due o tre cose io sono un socio della sezione di Ivrea per lavoro mi occupo di assicurazioni e per il CAI sono un consulente che si occupa di tutta una serie di problematiche io lo dico sempre non sono l'assicuratore nel senso che io non guadagno sulle polizze che facciamo che fate e lo dico perché ci saranno certi passaggi in cui vi spingerò ad assicurarvi e lo faccio proprio perché ci credo e non perché fra virgolette più polizze facciamo più guadagno io in realtà appunto come dicevo ho altri incarichi che sono di questo tipo il primo cercare di migliorare sempre le polizze in essere ed è chiaro che questo avviene anche con questi incontri un po' di meno ma quando si facevano incontri di persona ne ho fatto uno due settimane fa a Desenzano lo dicevo prima Mennina alla fine della chiacchierata sono venuti dei soci dei qualificati dei titolati e mi dicevano ma sì però potresti migliorare questo potresti migliorare quell'altro ecco sono degli aspetti in cui io sono esperto un pochino di assicurazioni conosco il CAI però voi meglio di me conoscete le vostre problematiche che magari possono essere aggiunte nelle polizze fra un anno e mezzo perché ogni tre anni vengono fatte le gare secondo aspetto è quello di risparmiare e lo dicevo prima se vi ricordate quattro anni fa c'è stato un momento decisamente importante per il CAI perché abbiamo ottenuto di risparmi molto forti noi tutti assieme paghiamo quasi cinque milioni di euro e quindi siamo un cliente importante e quattro anni fa siamo riusciti ad ottenere quasi 600 mila euro di sconti che sono stati che se qualcuno ha fatto anche attività di sezione si ricorda è il famoso euro che è stato restituito per ogni socio per cui 300 mila euro dalle sezioni 300 mila euro la tenuta della sede centrale ha costituito un tesoretto che è servito e poi ve lo spiegherò per particolari casi è molto importante collegato con questo un passaggio ripeto l'ho già detto prima adesso lo ripeto con tutti che eravamo siamo un cliente molto importante ma le compagnie di assicurazioni che non sono enti di beneficenza sono contenti di incassare i 5 milioni che tolte le spese tolte le tasse sono più o meno 4 milioni e mezzo ma sperano di non pagare se cominciano a pagare un milione due milioni tre milioni va bene perché rimangono sempre del sordine del servadanaio se cominciano a spendere più di quello che hanno incassato non sono assolutamente contente ed è purtroppo quello che è successo in questi tre anni gli ultimi tre anni perché quando abbiamo fatto la gara nel 2017 2018 io avevo l'incarico di coinvolgere più compagnie possibili e ho coinvolto una decina di compagnie le più grandi italiane ed europee e hanno partecipato a secondo il tipo di polizza 7-8 compagnie un anno fa ho fatto lo stesso ragionamento ma quando le compagnie hanno visto i sinistri cioè quelle le cifre che hanno pagato le compagnie precedenti il numero delle pratiche non hanno partecipato abbiamo avuto una gara di poliz con due compagnie e una gara dove ha partecipato solamente una compagnia quindi vuol dire che non siamo più appetibili ed è si è dimostrato col fatto questi aumenti decisamente importanti di costi terzo aspetto quello di andare a dare una mano alla sede centrale io una volta alla settimana normalmente mercoledì infatti sono andato oggi vado su dell'ufficio sicurazioni dove c'è Elisa Cissiere che è una ragazza veramente in gamba che da due anni che lavora in sede ed ha molta voglia di fare in gamba però chiaramente non arriva dal mondo assicurativo per cui ogni tanto vado a dare una mano soprattutto perché lei deve interloquire con le compagnie che hanno chiaramente un linguaggio diverso da quello che abbiamo noi io stasera questa mezz'oretta parlerò in termini molto chiari molto banali molto franchi non userò l'assicurativese che purtroppo devo adoperare come oggi quando ho parlato con l'iquidatore un socio era al telefono mi aveva chiesto una certa informazione in italiano diciamo così io l'ho tradotta in in quello che voleva sapere il l'iquidatore usato il suo linguaggio e tutto questo è servito spero in qualche modo perché il socio avrà capito l'iquidatore avrà capito che non poteva andare avanti in questo modo a parlare semplicemente senza tenere conto di quello che da questa dall'altra parte del telefono c'era una persona che sapeva qualcosa di Polizia per cui non poteva negarlo l'ultimo aspetto è collegato con questo e dicevo appunto soprattutto quando capitano quelle cose che sono le più importanti vengono chiamate già una parola brutta sinistri e quindi il fatto che siano sinistri bisogna in qualche modo cercare di risolverli io adesso affronto subito l'argomento che devo trattare stasera che è quello del manuale perché il manuale perché noi abbiamo pensato come giustamente ha detto Massimo e ringrazio ancora una volta perché Massimo affronta l'argomento della responsabilità in una maniera credete molto chiara e molto trasparente cosa che non sempre succede ed è un argomento difficile io l'ho visto con altre persone con altri momenti perché usa delle parole chiare e non tutti gli avvocati le odoprono quindi devo veramente ringraziarlo lui usa queste parole chiare che servono proprio perché bisogna in qualche modo spiegare che cosa può capitare noi riusciamo a spiegare che cosa può capitare e cerchiamo di risolverlo come? con le polizze perché durante questa mezz'oretta vi spiegherò delle altre cose però non è che qualcuno può finire in galera al posto nostro noi semplicemente possiamo far sì che al posto di tirare fuori i soldi noi come ha detto giustamente Massimo di vendere la casa o le mutande o qualcosa del genere pur di risolvere i nostri problemi abbiamo la compagnia che paga le polizze sono scritte in un modo mostruoso in assicurativese ma è importante che ci siano sul sito perché il liquidatore sa che noi le sappiamo quindi non può fregarci non può dire no questo non è compreso no ci sono però noi per poterle spiegare un pochino di più abbiamo studiato e abbiamo scritto questo manuale vai pure avanti per piacere Massimo questo manuale comprende tutta una serie di cose andiamo ancora avanti il passaggio più importante comincia qua sono questi sono le quattro tematiche che ha affrentato anche prima Massimo infortuni mi faccio male responsabilità civile faccio male a qualcuno soccorso mi faccio male e viene a prendere l'elicottero nel Lazio non succede per adesso ancora di dover pagare ma in tutte le Alpi non è così tutela legale faccio un danno veramente importante c'è addirittura una conseguenza penale io purtroppo rischio di finire in prigione ma se mi trovo un avvocato quindi se c'è una polizza che mi paga un buon avvocato forse riesco a cavarla con poco vai avanti per piacere io salto queste cose perché vado sicuramente a quello che interessa di più a voi quindi noi sappiamo che in attività istituzionale cioè quando abbiamo rinnovato il bollino siamo assicurati quando facciamo le attività vai avanti grazie e questo è un altro aspetto molto importante io affronto le cose positive e quelle negative quelle positive che abbiamo una polizza che copre qualsiasi evento a qualsiasi altezza è una delle poche coperture che non ha limiti per quel che riguarda la pericolosità in montagna però questa è una polizza infortunio infortunio vuol dire mi faccio male se io ho un infarto se è un ictus se mi capita qualcosa del genere in montagna non è infortunio ma è una malattia e quindi non è compreso in polizza è bene saperlo fin dall'inizio andiamo avanti grazie questa è un passaggio che soprattutto le persone che hanno qualche anno come me si ricorderanno fino a a Mantua mi pare 10-15 anni fa ogni volta che bisognava organizzare un'attività bisognava passare in consiglio direttivo stilare il verbale mandare il fax in sede centrale e poi pagare in base alle persone che partecipavano io ho cominciato a arrivare al CAE centrale nel 2005-2006 e mi sono accorto di tutta una serie di problematiche ad esempio i fax arrivavano illegibili quindi ero molto preoccupato del fatto che in caso di incidente la compagnia avrebbe potuto non pagare oppure c'erano certe sezioni che scrivevano viaggio di pulmo da 50 posti assicuravano solamente 10 persone io chiamavo il presidente e gli dicevo scusa ma perché ne assicurate solo 10 il presidente tranquillo diceva ma sì ma tanto non moriamo mica tutti il problema è che questa era una dichiarazione falsa che in caso di incidente anche a una sola persona avrebbe coinvolto tutti perché non avrebbero potuto essere assolutamente assicurati è stata fatta una rivoluzione copernicana io ho spiegato all'allora componente di cdc vincenzo torti che alle compagnie di assicurazione non fregava niente di avere tanti fax era sufficiente avere dei soldi in un modo o nell'altro per cui abbiamo deciso è stata presentata in l'assemblea che tutti i soci in attività istituzionale sarebbero stati assicurati automaticamente per cui non c'è stato più bisogno di fare i fax non c'è stato più bisogno di pagare ma è sufficiente la delibera dell'organo competente e ringrazio prima la domanda che mi ha fatta se non mi ricordo più per il discorso di se si cambia qualcosa non c'è problema giustamente Massimo dice chiaro che se si cambia la località invece di andare a Roma si va a Belletto io mi dicendo dobbiamo motivarlo e dobbiamo mandare un email un whatsapp ma se tutti assieme stiamo facendo un percorso e a parità di pericolosità usciamo da un sentiero e andiamo in un altro non c'è nessun problema è sempre l'attività sociale andiamo avanti grazie i pitali li abbiamo visti prima comincio a dire una particolare quando voi adesso voi siete la maggior parte siete titolati qualificati però io penso anche al socio e voi siete soci quando è il momento di rinnovare pagati 40-50 euro cominciate a pensare che con 4-5 euro in più potete raddoppiare il capitale raddoppiare il capitale vuol dire che in caso di morte facciamo l'esempio più brutto durante un'attività istituzionale chi resta avrà non più solo 55.000 euro ma 110.000 andiamo avanti grazie qua come tutte le polizze anche la nostra delle esclusioni ma siamo riusciti a limitarle tantissimo vai avanti la pagina dopo su un particolare che sono due particolari molto importanti limiti ed età limiti ed età perché io lavoro sono un broker di assicurativo quindi per i miei clienti vado a cercare le polizze migliori teoricamente su tutte le polizze i limiti ed età sono decisamente bassi arrivano 75-80 anni poi non ci si può più assicurare noi invece abbiamo un limite teorico di 85 anni ma in realtà poi possiamo essere assicurati per tutta la vita semplicemente con un capitale più basso quello che invece è un pochino è stata una vittoria che abbiamo ottenuto negli ultimi anni è l'articolo 5 dove ci sono delle persone che non si possono assicurare è una delle tante clausole che io dico sempre ai miei clienti dico attenzione guardiamo le cose positive quindi il costo andiamo a vedere la parte davanti la seconda cosa che leggo io sono le esclusioni tutte le polizze di fortuna hanno esclusioni molto importanti legate a problematiche di malattie mentali tossicodipendenze e via dicendo e noi siamo riusciti ripeto non so se è il caso di parlarne perché non penso sia la serata a trovare una polizza che serve per le sezioni che fanno attività di montagna terapia cioè portano in giro persone che hanno di questi problemi per cui il socio tra virgolette che non ha problemi è assicurato con la polizza normale se voi avete svolgete attività con persone che hanno di questi tipi di problemi c'è una polizza apposta andiamo avanti grazie questo è un passaggio che non interessa a nessuno lo so già perché mediamente io su 100 persone ce n'è una barra due che hanno questi problemi stasera siete una quarantina secondo me non ce ne sarà nessuno ma se qualcuno avesse delle polizze per proprio conto chieda a me minami il numero di telefono perché è importante sulla polizza del CAI c'è scritto che non è importante sapere se avete delle altre polizze non lo dovete dichiarare ma alla vostra compagnia sì perché rischiate in caso di incidente di prendere i soldi solamente della polizza del CAI e non quella della vostra compagnia è un passaggio dedicato ma che interessa pochissimi ma quelli che hanno bisogno mi possono telefonare andiamo avanti grazie questo va bene ecco solo un passaggio sta diventando sempre problematico l'ho detto prima tantissimi sinistri abbiamo raggiunto un accordo con la compagnia l'unica compagnia che ha voluto assicurarsi perché è necessario il punto 4 certificato del pronto soccorso se ci facciamo male in gita e poi diciamo vabbè tanto non c'è nessun problema o la caviglia è un po' gonfia andiamo dopo 4-5 giorni dal medico medico di base non possiamo aprire la pratica perché questa polizza è fatta se capita qualcosa di serio quindi se ci siamo fatti male andiamo al pronto soccorso il giorno stesso la sera al massimo il giorno dopo dichiarando quello che è successo perché altrimenti non riusciremo a aprire la pratica e essere rimborsati dall'assicurazione andiamo avanti grazie e questo andiamo alle polizie che interessano voi il titolato e il qualificato dopo hanno la stessa copertura che abbiamo noi soci con due particolarità la prima quella della sono assicurati anche in attività personale e io rido sempre scherzo durante queste serate soprattutto quando riesco a vedervi e sono di presenza perché dico che questa questa garanzia il fatto di poter andare essere assicurati in attività personale è un grosso vantaggio e l'avete ottenuto grazie ai vostri rappresentanti sindacali che hanno spinto per averlo ma al di fuori della battuta stupida è giusto che voi andiate in montagna per conto vostro ad allenarvi per poi portare noi in montagna questo fa sì però che quando voi andate per conto vostro siete assicurati in base alla combinazione che avete scelto A o B quando andate in attività istituzionale c'è un meccanismo che abbiamo inventato che è quello del cumulo cioè vuol dire che se avete scelto la combinazione A da titolato o da qualificato sempre per la morte in attività personale sono 55 mila euro ma se quando voi avete rinnovato la copertura assicurativa la copertura il bollino non avete scelto nulla avete altri altri 55 mila euro per cui c'è il cumulo sia di morte che di invalidità permanente che di spese mediche è una cosa molto importante perché spero di essere stato chiaro altrimenti poi magari con le domande lo spiegherò perché molte volte questo non viene capito e purtroppo ci sono stati tantissimi casi di titolati qualificati che si sono fatti male in attività sociale hanno preso i soldi solo una volta invece potevano prendere due capite che sono cifre decisamente importanti andiamo avanti grazie capitale li abbiamo visti sono uguali quelle dei soci uguale anche questa la differenza che ho calificato la paga andiamo avanti grazie grazie questa è una polizza che non vi interessa ve la racconto semplicemente a livello statistico proprio perché noi in Italia non ci assicuriamo quando andavo in giro per l'Italia mi si veniva sempre detto ma è possibile che noi soci normali non abbiamo una polizza come quella dei titolati che sono assicurati in attività personale e ho detto guardate si può trovare basta pagare ah sì e tutti 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 la volevano cosa abbiamo fatto allora il buon Vincenzo era già vicepresidente siamo andati a parlare con una compagnia e la compagnia voleva numeri le compagnie hanno bisogno di cifre di numeri io sono partito da un presupposto che dei 300 e passa mila 300 mila soci in realtà quelli che vanno in montagna davvero sono 100 mila perché questa è una polizza fatta per chi va in montagna davvero cioè le polizze senza nessuna esclusione ipotizzando togliendo i titolati qualificati eccetera tagliando ancora poteva interessare 40-50 mila persone conoscendo il mercato conoscendo i soci CAI conoscendo l'Italia ho detto sicuramente saranno i pochi che la faranno però ho ipotizzato che fin da subito avremmo avuto 10 mila soci assicurati in realtà il primo anno ci sono stati 500 l'anno dopo 1000 adesso siamo arrivati a quota 2000 questo per me veramente imbarazzante perché mi rivolgo a voi titolati qualificati che avete già questa copertura ma se avete qualche amico che viene in montagna con voi la domenica non in attività istituzionale parlatene perché è una polizza che costa un pochino più cara rispetto prima ma che permette se capitasse qualcosa di lasciare dei soldi a che rimani io mi ricordo sempre che 3-4 anni fa una ragazza scrisse al presidente generale e lui fece un editoriale dicendo mio marito era un amante della montagna tutte le domeniche andava in montagna purtroppo è mancato io sono solo 30 anni ho due figli piccoli cosa può fare il CAI per me e il buon Vincenzo gli ha risposto il CAI aveva fatto allora costava 90 euro avresti avuto una polizza che ti permetteva di avere 55.000 euro che non ti cambiavano la vita però con 55.000 euro potevi andare avanti un anno o due e poi decidere non hai voluto spendere 90 euro mi spiace più di tanto non si può fare andiamo avanti grazie avanti 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 montagna terapia l'assalto a meno che qualcuno me la chieda però non è il caso di questa sera avanti e andiamo ecco la polizza è più importante e condivido tutto quello che ha detto Massimo fino adesso e la polizza è più importante per voi per voi che portate delle persone in montagna perché questa polizza permette di essere sereni qualsiasi cosa capiti se succede qualcosa e qualcuno vi chiede i danni la compagnia paga abbiamo avuto delle cifre molto importanti su sinistri di pila su altri tipi di sinistri e bene o male che era tutto quanto scritto molto bene perché il verbale del direttivo nulla osto del corso e vi dicendo perché così la compagnia ha dovuto pagare quando è successo il disastro di pila io abito ivrea fra Torino e d'Aosta mi ricordo che Torti mi ha telefonato e mi ha detto vai subito su ad Aosta perché è successo un pasticcio ti do il numero di telefono del direttore della scuola che lì è così del corso così io l'ho chiamato lui mi ha detto guarda ti ringrazio Giancarlo sono qua con il magistrato che mi sta interrogando il maresciallo di Carabinieri che mi sta interrogando per cui vieni pure su ma non posso fare niente tutto quello che ho fatto l'ho fatto prima se l'ho fatto male prima non posso farsi più lui purtroppo sapete benissimo come è successo dal punto di vista dei soldi uno dei due morti gli eredi di uno dei due morti si sono accontentati dei soldi della polizia infortuni gli altri hanno chiesto ottenuti i soldi della polizia infortuni poi hanno fatto caso al CAI e hanno ottenuto diverse centinaia di migliaia di euro parte civile parte penale ne parliamo dopo per cui bene o male che era tutto opposto altrimenti le persone i qualificati i titolati oltre ad avere problemi penali avrebbero dovuto anche davvero vendere le case per pagare tutto quello che è successo andiamo avanti grazie questa è una polizia che comprende tutto quello che fate è un massimale di 30 milioni di euro quindi ce n'è abbastanza purtroppo stiamo cominciando ad avere grossi problemi però per adesso siamo a posto stiamo avanti grazie comprende tutto l'unica cosa che scusa sono le attività di carattere agonistico ma salvo le gare sociali ma il CAI di per sé non fa agonismo vai avanti ancora per cortesia su questa polizia abbiamo giunto tantissime possibilità di copertura lo dico velocemente perché ripeto non è la platea questa ma ad esempio sono già assicurati i rifugi come responsabilità civile le sezioni le palestre le vie ferrate tante cose però è importante che sia tutto quanto in regola andiamo avanti grazie avanti e qua andiamo a quello che ha detto io mi collego sempre mi fa molto piacere lo ripeto perché ormai stiamo giocando insieme da un po' di tempo stiamo spero riusciamo stiamo cercando di spiegare le cose come stanno Massimo ha detto una cosa molto importante io vado la domenica in giro con un mio amico pari grado si fa male non mi chiedi i danni perché eravamo tutti dello stesso livello se però io dico a un mio amico vieni pure in giro con me io sono un qualificato e un titolato del CAI quindi sono espertissimo se ti capita qualcosa io ho la polizza convinto che questa polizza quella di responsabilità civile che voi avete automaticamente i titolati e i qualificati invece pagano serve per questo non è così questa è una polizza 12 euro 12 euro e 50 che serve solamente ma va già bene così se per caso facendo una manovra o facendo cadere una pietra spaccate la testa quello sotto di voi è una responsabilità civile chiamiamola diretta per quello che può capitare ma se per caso voi create un problema perché sperate convincete qualcuno che voi avete le coperture come quelle delle guide che costano invece 300-400 euro non serve assolutamente andiamo avanti grazie stessa cosa vale per questa perché i soci hanno la possibilità di fare questo tipo di attività e qua andiamo al secondo punto che mi fa abbastanza mi tira giù di morale perché in Italia come dicevo non ci assicuriamo adesso se non quando siamo obbligati l'unica polizza obbligatoria fino adesso era quella dell'auto e quindi tutti quanti per forza si fanno la polizza dell'auto adesso è diventata obbligatoria la polizza di responsabilità civile per andare a sciare questa polizza dei soci CAI e quella dei titolati quella dei qualificati con una modifica siamo riusciti a ottenere che comprendesse anche la responsabilità civile quella obbligatoria dal primo gennario sulle piste di sci il problema ed è quello che mi sconvolge è che ho scoperto ma non solo fra soci CAI ma anche i miei amici che non c'era nessuno che aveva la copertura assicurativa di questo tipo allora io ho degli amici che ho scoperto che con figli piccoli con cani che vanno in bicicletta che vanno a sciare non avevano nessun tipo di copertura assicurativa e si sono ributtati su questa questa è una polizza di 12,50 euro che fino all'anno scorso era stata comprata da 1.500 2.000 persone adesso siamo arrivati a quota 5-6.000 sconvolgente perché ripeto se uno è obbligato la fa altrimenti non la fa è una polizza che spendo due parole sulla differenza fra titolato qualificato e socio quella del titolato ha un massimale di 2 milioni e mezzo quella del socio ha un massimale di un milione ma può essere stesa anche ai familiari conviventi minori eccetera eccetera purché iscritti anche loro per cui se il titolato che ha la polizza già pagata dalla sede centrale e non ha famiglia può contentarsi direttamente di quella se il titolato invece ha una moglie e dei figli che vivono con lui e sono tutti soci vanno in montagna può comprare un'altra polizza 12,50 euro e sarà assicurato anche quando vanno in montagna loro il qualificato invece che se la paga o la paga la sezione o se la paga lui può scegliere di fare quella che costa 12,50 euro e da un massimale di 2 milioni e mezzo da solo senza familiari oppure quella che costa 12,50 euro e un massimale più basso da un milione andiamo avanti grazie avanti questa è un'altra che non interessa però ve la dico perché fra i tanti pasticci che stanno succedendo oltre quelle che diceva Massimo quindi la responsabilità diretta a qualcuno che si fa male che chiedi danni chi ha delle responsabilità all'interno della sezione sa benissimo quanto sia pericoloso sempre più gestire la segreteria e la tesoreria di una sezione è facile quando ci sono le serate di apertura per il rinnovo o per le nuove polizze trovarsi la coda per cui dare il bollino non registrare dimenticarsi di registrare magari farlo dopo un'ora poi dimenticarsene e farlo il giorno dopo sono successe questi anni i grossi problemi uno fra tutti una sezione del nord Italia a cui scuola di alpinismo aveva mandato un elenco di 102 persone da assicurare la segretaria ha preso il foglio ha assicurato le prime 100 che erano dalla parte si è dimenticata le due che erano dall'altra parte e si è fatta male pesantemente una delle due rimasta invalida doveva fare aveva pagato per la polizza da combinazione b 160 mila euro è stata la sezione che ha pagato 160 mila euro con l'intervento della sede centrale che ha fatto un finanziamento a tasso zero e vi dicendo ma questa sezione andrà avanti tutta la vita a pagare abbiamo inventato questa polizza questa polizza sarebbe proprio per quello perché se per caso qualche segretario si dimentica di registrare una polizza c'è la possibilità motivandola spiegandola eccetera eccetera di essere assicurati e già compresa nella polizza abbiamo fatto nella gara abbiamo messo come miglioria io spero solo che quest'anno non ci siano delle denunce perché l'abbiamo ottenuto così perché è chiaro che se ci fossero delle denunce l'anno prossimo sarebbe molto difficile ottenerlo ancora andiamo avanti grazie avanti avanti questa è un'altra polizza che nel Lazio io penso non interessi molto interessa molto per il nord Italia e soprattutto per tutte le persone che vanno in Svizzera questa è una polizza che fino a qualche tempo fa in Italia non serviva perché il recupero degli elicotteri non costava adesso in Italia c'è una differenziazione fra quando uno è ferito si è fatto male quindi l'elicottero viene a prenderlo ti porta all'ospedale non paghi nulla se invece semplicemente stai male sei stanco vuoi tornare a bere l'afferitivo al paese sotto e quindi allora chiami l'elicottero con una scusa e allora se non hai nulla devi pagare e pagare cifre importanti noi abbiamo aggiunto da sempre due parole riesci a indicarmene massimo per piacere feriti e morti dispersi comunque in pericolo di la seconda riga perfetto allora abbiamo messo feriti e morti dispersi e comunque in pericolo di vita è importante questa definizione dispersi e in pericolo di vita perché è già successo che il caso più eclatante è stato il primo quando hanno cominciato queste queste problematiche perché durante una un'arrampicata in Val d'Aosta c'erano tre persone la ragazza in mezzo ha avuto una crisi di panico per cui non riusciva ad andare più nessuno giù ha chiamato l'elicottero l'elicottero è arrivato ha caricato la ragazza e poi ha detto ma volete salire sopra anche voi e gli altri hanno detto ma sì tanto siamo qua tanto siamo qua vuol dire che la ragazza non ha pagato nulla perché è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale per una notte gli altri due si sono trovati a distanza di una quindicina di giorni 5 mila euro testa da pagare l'elicottero noi siamo riusciti spiegando che erano saliti sull'elicottero perché era in pericolo di vita se non fossero saliti sull'elicottero visto che era tardi che non era vero ma l'abbiamo in qualche modo giustificato non avrebbero potuto passare la notte cordata e il liquidatore ha capito che c'era un piccolo trucco però ha pagato non tutto ma ha rimborsato parzialmente la cosa più importante però ripeto scusa ancora un passaggio velocissimo è che quello che serve di più è soprattutto per la Svizzera la Svizzera invece anche il morto anche il ferito deve pagare noi abbiamo avuto dei casi veramente imbarazzanti di persone che sono fatti male soccorsi dell'elicottero che devono pagare 5 mila 10 mila euro per arrivare a tre anni fa casi molto molto difficili dove due ragazzi giovanissimi di 20 anni hanno fatto un'uscita in Svizzera sono caduti sono morti tutti e due l'elicottero della Rega una società svizzera li ha soccorsi li ha portati all'ospedale li ha composti poi li hanno portati a casa per i funerali dopo una settimana i genitori ci sono visti recapitare una richiesta di 20 mila euro a testa chiaramente in quel momento non pensavano questo hanno lasciato passare e ha detto vabbè ci pensiamo poi dopo una settimana è arrivata già la lettera dell'avvocato che minacciava l'azione legale in quel momento siamo riusciti a convincere la compagnia a pagare direttamente perché tanto era evidente che avrebbe dovuto pagare quest'anno sulla polizza e sulle ultime due righe in eretto in caso di incidente mortale la compagnia pagherà direttamente proprio perché in certi momenti abbiamo altre cose da pensare dover ancora pensare a rimborsare il trasposto degli elicotteri non è che vada bene andiamo avanti grazie questa non so se vi interessa è una polizza analoga a quella del soccorso alpino nel senso che serve per quando si vuole andare a fare spedizioni esteropee è una polizza sempre più difficile da fare perché soprattutto c'è la moda di andare e lo sapete meglio di me a fare certe escursioni certe uscite partecipare a certi tracking che però vuol dire che c'è anche la moda e c'è anche il business da parte delle società di elicottero locali per andare a portare a casa chi si è fatto male noi abbiamo avuto anche qui un caso due anni fa dove una società di elicotteri si è rifiutata di andare a soccorrere un ferito fin quando non c'erano i soldi sul conto corrente dell'elicotterista una cosa sconvolgente purtroppo è successo a Ferragosto la compagnia non può pagare prima in questo caso come anche nelle altre e ha provveduto direttamente il presidente della sezione facendo un bonifico questo cosa vuol dire che se per caso qualcuno di voi dovesse organizzare di questo tipo di spedizioni telefonatemi che gli spiego un attimo cosa si può fare perché non è molto semplice andiamo avanti grazie finiamo questa è l'ultima la più brutta che fino a poco tempo fa non veniva quasi mai ed operata adesso sta cominciando purtroppo a diventare sfruttata è la polizza che ti permette di sceglierti un avvocato che c'è al meglio per poter cercare di non finire dentro è una polizza che ha creato tantissimi problemi soprattutto dopo Pila perché noi l'avamo pensata con un massimale di spesa sui 20-30 mila euro che pian pianino è arrivato due anni fa 60 mila euro abbiamo ipotizzato 60 mila euro dicendo se c'è un processo penale una persona se fra il processo l'appello la cassazione più o meno con 60 mila euro ce la fai e Pila è stato il primo caso di sei titolati qualificati indagati chiaramente con i 60 mila euro dell'ora non sono stati sufficienti abbiamo la polizza malapena pagato il primo grado però per fortuna c'erano stati i famosi risparmi degli anni precedenti e adesso la sede centrale con il fondo che aveva messo da parte ha pagato le spese dell'appello questa polizza è stata portata adesso a 100 mila euro però in teoria non basterebbero neanche ma come tutte le polizze costano però dobbiamo cercare di una via di mezzo purtroppo ormai lo accennavo prima di iniziare la serata i magistrati stanno cominciando a indagare su tutto abbiamo avuto un caso adesso di un mortale non durante un corso ma durante una uscita tra pari grado perché era una cittadice alpinismo purtroppo è mancato un socio e il magistrato ha indagato i tre sta indagando i tre capigita speriamo che si blocchi che non vada avanti ma se dovesse andare avanti questa polizza serverà perché intanto adesso abbiamo portato il massimale a 100 mila andiamo avanti fino all'ultima pagina questo lo saltiamo ecco il concetto proprio l'ultima pagina per il piacere quello che vi chiedo è che quando se mai doveste fare serate come queste se ci chiamate noi lo facciamo molto volentieri se non ci chiamate vai proprio in fondo per il piacere se potete utilizzare questo eccolo qua grazie questo questo manuale perché è stato fatto da Elisa che è quella dell'ufficio assicurazione da Laura Colombo che è la vicepresidente del CAI Lombardia che è un medico però si è appassionato delle assicurazioni Anna-Lisa Lattuada che voi conoscerete dell'ufficio amministrativo della sede centrale Andreina è il direttore da me e dal presidente vi chiedo di presentare questo perché fino a qualche tempo fa continuavo a vedere dei mini manuali leggermente diversi ecco questo viene fuori un casino perché ci abbiamo messo molto tempo e l'abbiamo studiato alla perfezione perché basta una virgola messa fuori posto che il significato delle coperture assicurative cambia completamente io ho finito se avete domande sono a disposizione vai Franco grazie grazie allora ah Franco ha alzato la mano prego ciao Giancarlo dunque la domanda forse potrebbe sembrare sciocca ma le polizze si attivano soltanto quando c'è l'iscrizione e il rinnovo del bollino oppure posso farlo anche durante l'anno in corso pagando chiaramente il premio per il prezzo intero questo mi sfugge un po' sì allora e purtroppo la maggior parte delle polizze sono tutte con scadenza 31-12 per cui le polizze personali prima le attivi meglio è perché ad esempio io sono dato la settimana scorsa io ho abitudini di regalare il bollino del CAI un po' di amici e sono già arrivato a quota 10-15 quindi tutti gli anni diventa sempre più pesante e sono andato in questi giorni a rinnovare per me e per gli altri e come copertura assicurativa fino al 31 marzo non c'era problemi la mia polizze è un'attività personale però in questi due mesi che non ho che non ho pagata non c'era quindi ho pagato adesso a marzo e sono ho pagato l'annualità intera e sono stato assicurato sarò assicurato 10 mesi grazie a maggior ragione per voi titolati qualificati grazie grazie a te Pietro buonasera volevo fare una domanda più o meno come quella che ha fatto prima Franco non so se mi devo rivolgere a Giancarlo o a Massimo fai tu e vediamo chi risponde vai tranquillo se organizzo un'escursione su sentieri non ufficiali metto per esempio il parco nazionale di Tarlazio a Bruzza e Molise c'è un sacco di sentieri molto trafficati però non sono ufficiali non sono segnati con la segnaletica del CAI e se casomai si fa male qualcuno è assicurato? vai tu Massimo vado io insieme il discorso della segnaletica cioè un sentiero non è ufficiale o un ufficiale assicurato o non assicurato in tale se è o non è all'interno di una carta ufficiale o un ufficiale il discorso è sempre su un sentiero non segnato le problematiche più che farsi male potrebbe essere che mi perdo e sono delle problematiche diverse cioè quindi l'infortunio o quello che può succedere non è legato al fatto che sia segnato o non segnato il discorso è che ovviamente devo fare delle attività proporzionate a quel tipo di escursione che voglio fare e le persone che porto con me devono essere nelle condizioni di poter affrontare quel tipo di percorso quindi che sia segnato o non segnato è chiaro che se vado in un posto vietato è diverso cioè la responsabilità di per sé l'assicurazione secondo me pagherebbe lo stesso però potrebbero solo delle altre problematiche perché se porto qualcuno in un posto dove vado su Letta vado sul Vesuvio vado in certi posti dove è vietato andare è chiaro che la problematica può cambiare e Giancarlo cosa dici d'accordissimo grazie soprattutto sul secondo passaggio cioè l'assicurazione non va a controllare queste cose abbiamo visto che hanno pagato delle cose veramente al limite dell'assurdo va però a vedere se tu per caso ti avventuri in un posto dove non potevi andare e a questo punto se è un danno piccolo lo paga lo stesso se però c'era scritto grosso come una casa che non dovevi andare in quel sentiero che era pericoloso che potevi cadere eccetera eccetera e ci sono due o tre morti boh non so la compagnia secondo me potrebbe anche rifidarsi di pagare i sentieri non è che sono esposti l'unica cosa è che il parco non permette di andare fuori sentiero però sono sentieri che durante l'anno ci vanno centinaia e centinaia e centinaia di persone io dico se è vietato se c'è scritto un ponte passarella non passate perché è pericoloso sta per cadere il ponte e dite lo vai a cercare ho capito questo qua ho capito non ponte pericolante non ferrare ho capito questo qua il concetto va bene grazie allora guarda il discorso il discorso sul vietato non vietato è una cosa diversa se c'è il divieto del parco è fuori discussione che ripeto dipende che tipo di infortunio succede perché per esempio qua su Reggio Emilia all'interno di una decuville quindi una vecchia ferrovia che veniva utilizzata negli anni 40 e 50 per estrarre per fare quindi a scartamento ridotto era sempre stata utilizzata per passeggiate all'interno e tra l'altro è bellissima è cominciata a franare da una parete e sono cominciata a franare dei sassi e hanno colpito anche le staccionate tutto nasce che uno si appoggia in bicicletta a una di queste staccionate e la staccionata cede vola di sotto non muore ma si fa male fa causa al comune fa causa al cai o meglio manda lettera di fisica